Tra l'altro dobbiamo vedere il menu dei potenziamenti, dobbiamo vedere il potenziamento del Legion e se possiamo potenziare le armi o addirittura comprarle. Distretto inaccessibile. Quella! Che succede? Capitolo 3? Legame. Sono sveglia, madre. Dai, è palesemente nostra madre per come l'abbiamo fatta. Brenda Moreno. È nostra madre. E la madonna, tre giorni. L'importante è quello, dai. Grazie. Benissimo, devo tornare in servizio io. Il comandante Saragin, ovviamente. Va bene. Il nuovo capitano Saragin, ovviamente. Ehi, nostro fratello, ciao. Ovviamente non ci parla. È così da tre giorni, magari. No, di nuovo la missione della carta igienica. No, però. E però non abbiamo carta igienica. È un problema. Dovremmo comprarla o trovarla in giro. Anche perché in quello dei maschietti non si entra, quindi. Uh, finalmente posso potenziare l'equipaggiamento. Attenzione. Vediamo come funziona. Ah, guarda che c'è il menu spada. Estensione modalità Gladio. Codice materiale ci serve. Perfetto. Il legatus, invece. Ci serve il codice materiale comune e 8000 gold. Facciamolo, dai. Tanto vale farlo. Grazie. Ora ce ne servono 10.000. Più altri tre codici. Volendo possiamo farlo, ma per adesso mi fermo. Ah, questo c'ha le armi, ma sono armi consumabili. Io pensavo ci fossero tipi diversi di spada, manganello e pistola. Ok, va bene. Ah, ma ogni volta che completiamo una missione otteniamo qualcosa. Ah, e chi l'aveva visto? Non ci avevo fatto caso a questo menu. Ci sono tanti piccoli premi. Raccogli più dell'80%. Questo vuol dire... Ok, credo di esserci arrivato. Quando... Perché ormai abbiamo capito che cattureremo altri legion. Quando cattureremo il legion bestia e il legion possente, dobbiamo tornare nei primi due capitoli e andare a cercare tutta la materia cremisi che abbiamo lasciato indietro. Tipo appunto quello bestia va a scavare nella spazzatura e ci sarà altra materia. Perché ne abbiamo raccolto all'incirca il 65% se non ricordo male. Avevo sbloccato il colore dell'equipaggiamento. Ma ti prego. Perché ho fatto la missione del cesso. No, ti prego. Ma posso scattare anche le foto. Ma ti... Ma come? Aspetta. Abbiamo ottenuto il kit medico che è un po' verdognolo e... No? E lo slot vuoto? Posso deciderlo io? Ti prego. Sì. Ti amo, porca miseria. Sì. Beh, volevo dare un tocco diverso al personaggio e... Mi piace così. Almeno siamo un po' diversi dagli altri, dai. Mi piace. Eccomi. Ah. Stai a te ancora. Buono. Tu ci hai dato tutti una sorpresa. Grazie, Will and the Four. Abbiamo perduto quattro lecce e uno dei nostri migliori oficieri. Questo è un serio spazio. Già, purtroppo sì. Eh, ho visto. L'ho visto in una scena. Quello è palesemente ovvio. Ovviamente quel tempo non ce l'abbiamo. Chi l'avrebbe mai detto? Questo vuol dire molto più lavoro per me. Grazie. Ok. Ovviamente. Sono passata da poliziotta a recluta a capo, in pratica. Anche io. Tu invece no. Tu ci collabori. Me ne sono accorto. Solo che ancora non so usarlo, ma quella è colpa mia, giocatore. Sì, abbiamo già capito. Smetti di continuare a farmelo vedere. Che è quello che mi interessa. Meno male, dai. È una responsabilità pesante. Sei il salvatore dell'umanità. Ma è il tuo ora. C'è un programma speciale nella ruota di training che credo sarà di alcun uso a te. Ok. Ho avuto preparato in caso di qualcuno come tu veniva. Non so se mai succederà, ma non so se mai succederà, però nell'evenienza. Comunque credo di avere già capito cosa intende con il potenziale. Perché prima girando ho fatto una prova con il mio Legion. E ho, diciamo, realizzato degli attacchi che prima non avrei potuto realizzare. Non capisco più che altro come faccio a potenziare il mio Legion. Per adesso scendiamo di sotto. Chi è? Chi è? È Maria? Ah, è la testa del cagnolino. Dio mio. Sì, è Maria. Dio mio, questa cosa è terribile. Ah, Marie. No, Maria. Che cazzo stai facendo? È al vostro servizio. Non c'è arriva, devo fare solo così. Eh, Marie, non ti abbiamo notato, eh. Se mi daranno mai quel costume, ti giuro che non lo userò mai. Te lo giuro. Tutto quello che vuoi. Ah, sì? Ah, ok, se è il mio hub di informazioni. No, però per ovvietà di gioco devo fare sì. Bravo, Lappi, vai. No. Brava, vai, vai, vai. Guarda, ti ringrazio, ma anche no. Ok, sentiamo. Vieni qui che ti dico segretino, dimmi. Dio mio, non ti avvicinare. Sì, ma voglio saperlo anch'io, no? È inutile che mi dici pissi, pissi, piss. Scorciatoie. Quando sei al quartiere generale, premix per mostrare il menu delle scorciatoie e raggiungere velocemente una destinazione. Eh beh, questo sì che è un segreto. Questa è una cosa utile, grazie, Lappi. Grazie. E ora vattene, per favore. Dio mio. Vediamo la X. Ah, proprio è un passaggio rapido. Vabbè, ci sta. Almeno non devi usare l'ascensore. Niente di eccezionale, ma ti ringrazio. Ecco quello che vi dicevo. Evochiamo il Legion. Facciamo una sequenza di attacchi. Ci illuminiamo e poi schiacciamo il tasto del Legion. Continuiamo la combo e appare di nuovo. Figata. Sono praticamente dei colpi finali. Molto, molto bello. Lo immaginavo. Grazie, comandante. Ok, quale? Attacco sincrono. Che è quello che ho appena fatto, sicuramente. Quanto ci fai? Ah, posso farlo anche senza che il mio Legion è attivo, però. Ok, questo è interessante. Posso farlo anche quando non è attivo. Questo non lo sapevo. Abbiamo anche il fendente, il balzo con la catena, il balzo con la catena e attacco. Legion spada in posizione, cambia l'angolazione e poi fai un fendente. Ah, i laser. Possiamo tagliare i laser in pratica. E anche i nemici, ovviamente. Allora, evochiamo il Legion. In posizione. Fendente. Figata. Bella, questa era una bella abilità. Vai. Preso. Non credo che lo userò molto in combattimento questa cosa, però è utile per rallentare il tempo, almeno. Perfetto. Tutti gli allenamenti sono stati completati. Appresso anche a te, Lappi. Perfetto. Questo vuol dire che è quello che possiamo modificare? Lo sapevo che mi mancava un menu. C'era scritto che c'era il menu per l'allenamento. Dai, non fare lo zundere adesso. Ma stai zitto, Akira, porca croia. Sta facendo il bene dell'umanità, lo sai. Quello lo penso anch'io. Quello lo penso anch'io che sei ancora vivo. Ma non mi puoi dare la colpa perciò. Eccolo qua, il due menu che mi ci mancavano. Completa tutti quanti i programmi di addestramento. Slot colori Legion. Ah, perfetto. Possiamo cambiare anche Legion. Sviluppa Legion. Assegna tecniche e abilità. Ok, possiamo assegnarci un codice abilità. Tempo di ricarica. Catena aumentata. Chance di critico. Chance oggetti. Velocità Legion. Attacco lento. Allora, per adesso io metterei quello di ricarica. Che ci dà anche autoschivata e antiveleno. Le tecniche. Possiamo assegnare due tecniche a X e Y. Ma non le abbiamo per ora. E sviluppo Legion. Che immagino ci darà poi le tecniche. Ecco appunto. Aspetta davvero. Eccola qua. Aumento l'attacco del protagonista e del Legion. Bella questa. Codice genetico ne abbiamo 1350. L'attacco sincronizzato è possibile dopo una schivata. Va bene. Questo ovviamente ci sta. Ma scusami, ma perché devo assegnarli apposta a mano? Ma fammi mettere automaticamente, no? Ah, ci sono anche slot abilità. E questi bisogna sbloccarli alcuni. Fa vedere la tecnica qui. Dai. Evoca le lame dei rotanti e torno al Legion. Bello. Questo è difensivo anche. No, beh, più che altro è d'attacco per lui. Ci sta, ci sta, ci sta. Aumenta la capacità difensiva del Legion. Ok, con calma. Allora, io farei prima questo. Ecco fatto. Ci prendiamo la tecnica che aumenta l'attacco. Questo cosa fa invece? Evocazione perfetta. Si attiva quando il Legion viene evocato subito prima di un attacco nemico. E beh, ci sta. E ci costa 350. Allora, io farei, farei, farei che questo lo prendiamo. Ci sta l'evocazione perfetta, secondo me. Ah, e sta aumentando anche la sua qualità. È diventato da C- a C2. Codice comune. Va bene. Sì. L'attacco sincronizzato è possibile dopo un'evocazione perfetta. Quindi, quando faccio l'evocazione perfetta, lui attacca automaticamente. Però poi posso anche attaccare io. Cioè, è una combo più combo. Però per gli ultimi soldi che abbiamo, io mi aumenterei la difesa. Tanto ne prenderemo di codice, secondo me. Ecco, C2+, adesso. Vediamo quanto mi costa sbloccare. Codice materiale raro. Vuole tutte e due rari. Io farei questo qua. Così poi andiamo ad aumentare l'attacco. Libre Legion per eseguire un feroce combo. Proprio liberato totale. Cioè, va per i cacchi suoi. Grado Scala Calvet C8+. Voglio provare la nuova tecnica. Voglio vedere di quanto ci aumenta l'attacco. Allora, mettiamoci un attimo la pistola. Evochiamolo. Attacco poderoso. Ok. Aumenta anche l'attacco della pistola. Vediamo l'evocazione perfetta. Ok. Ce l'ho fatta. Perfetto. Mi piace. Mi piace come sta avanzando. Andando la cosa. Ecco. Ti pareva che non ci chiamava qualcuno. È andato benissimo. Lappi non me ne frega un cazzo. Lappi ti ammazzo appena ti trovo. Cioè, devo giocare a nascondino con Lappi? Questo mi stai dicendo? Ok. Questa è la zona dove si modificano le armi. Che già ci siamo stati. Ma ti pare che appari da dietro anche te? Aha. Io vorrei sbloccare la mia spada, se non mi dispiace. Sì, esatto. Ciao Tabitha. Ciao Tabitha. Oh. E fino a qua ci siamo. E infatti ho già potenziato. Che cosa? Oh e finalmente dai ti prego dammi qualcosa di nuovo Ovviamente Ma guarda un po' il caso Sì la nostra arma fa schifo Tiragli una pistolata Va bene dai dammi codice materiale che devo potenziarmi su 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 Sì lo so tu sei quello degli esplosivi già ci siamo conosciuti Dammi codice materiale su su Dai muoviti Chi se ne frega Quanto vuoi Zero Va bene grazie Non ne hai di più solo uno va bene Grazie tieni ho il codice Tanto l'abbiamo già potenziato è inutile che diamogli un'occhiata Ah e invece no adesso possiamo sbloccarlo e avere anche la spada Noi abbiamo potenziato il legatus è vero che scemo Ebbè che potrei già anche potenziarlo di nuovo volendo Vabbè intanto ci sblocchiamo la spada Finalmente La spada sicuramente è molto meglio del manganello probabilmente sarà più lenta Molto probabilmente però potenziamo anche manganello X Attacco caricato pure Yes finalmente attacco con ritardo R stacco R Non abbiamo più soldi però Vabbè non importa almeno abbiamo potenziato la nostra spada finalmente Grazie Sì questo lo sapevamo già Il manganello è rapido e consecutivo ma va La pistola consiste in fare gli attacchi a distanza Il gladio lenti ma potenti Yeah Eh lo so lo so Perfetto Grazie ti ringrazio Ah eccola qui la modalità fotografica Realizzata da Tabita E come la uso? Fammi una foto Modalità foto Ah col destro Ah semplice Ma posso apparire anche io? Ah eccolo qua infatti Dai sembra la modalità fotografica di Kingdom Hearts Te Sì va bene Lappi Va bene ti ringrazio Tabita Ma le foto Devo farle a tutti? Cioè devo fare una fotografia a tutto quanto il personale? O solo ai nemici? E mi sa che invece sì Devo farla a praticamente tutti Questo è Ted Ah aspetta posso anche decidere se salvarle però Tipo vuoi salvare questa immagine? No Mi basta sapere che l'ho fatta Ok in pratica Collezionismo 2.0 Devi fare le foto a tutti quanti Scatta una foto di chi ti ha levato Questo è palesemente spoiler Dai È un trofeo che ti fa capire che lui tornerà E voi chi siete? Scusami È una missione rossa questa Ho sentito che parlavi della nuova modalità Gladio Per il manganello Staff della visione tecnica Non possiamo combattere al tuo fianco Ma possiamo fare in modo che tu sia ben addestrato A usare la nuova arma Più dettagli eroi Parlare un po' dell'addestramento Ah ma certo Chiedo scusa Potrebbe volerci un po' Ma lascia che ti spieghi cosa ho pensato Vorrei che ti addestrassi nell'uso di ognuna delle modalità del manganello Decido io la modalità L'addestramento termina quando sconfiggi tutti gli obiettivi O finisci capò Non c'è rianimazione che tenga Ah beh Ovviamente è anche proibito usare gli oggetti così Come le altre modalità del manganello Con cui non ti stai addestrando Però puoi usare il legion Dopotutto ora fai parte dell'unità neuron Tutto qua Fammi sapere quando vuoi iniziare L'addestramento è fondamentale Da quanto a fondo conosci la tua arma Può dipendere la tua vita Ah bene Ma il terminale legion Cosa mi serve? Ah Manutenzione e colore Manutenzione in che senso? Ok Lo sto ripulendo Non so cosa serva la manutenzione Ma è sicuramente importante Ora è splendido Ma cosa più importante Posso cambiargli il colore finalmente Wow Così è proprio brutto Ma ne avevo uno personalizzato È quella Dai Questa è una palese citazione Questo è Evangelion Porca troia voglio questo Non me ne frega un cazzo Dai Questa Non è neanche da roppo velata È proprio fatta apposta Verde, nero e viola Grazie Va bene Vediamo cosa vuoi fare Modalità manganello Iniziamo dalla prima Roy è diventata abilissima Alla fine era solo un allenamento Con tutte e tre le armi Così sembrerebbe Suo felice di averti dato una mano Usare nel migliore dei modi Il tuo manganello In effetti qualcuno come te sarebbe perfetto per il mio programma di addestramento avanzato Oh Addestramento avanzato Ora sì che le cose si fanno interessanti In questo addestramento Puoi usare qualsiasi modalità Simula minuziosamente un campo di battaglia ad alta pericolosità Solo tre persone dell'unità sono state in grado di affrontarlo con successo Gina lì si è il capitano Ma io credo che anche tu se la resti all'altezza Fammi sapere se ti vedi a scoprirlo Va bene Sì alla fine è una missione Madonna Tutto a scendere dal manganello fino a qua Ma soldi ne ho già guadagnati durante la missione Oppure no Ah eccoli qua Ho 5000 gold Va bene Proviamo il coso avanzato allora Ok In modalità avanzata Per il momento non è fattibile Perché abbiamo veramente pochi danni E questo momento non riusciamo a gestire l'ultima fase Perfetto Abbiamo visitato tutto quanto il quartiere generale Con molta fatica ti ho seguito Lappi Credimi Dove la metto la spilla? Spilla di Lappi Una ricompensa rarissima di Lappi E' una dei sei oggetti di Lappi Tieni tutti e vedi cosa accade No ti prego Se mi danno quel costume mi sparo Marie dai Ma dai Chi l'avrebbe mai detto Ah ah dimmi Di che si tratta Sì Va bene Andiamo al garage a vedere che cosa vuole Maria Maria dove sei? Ah eccola Ma dai c'è il costume di Lappi Ma c'è un gattino Ma che carino Ma che carino Ma che carino E' enorme però Vuoi del cibo per il gatto Akira Ciao Miau Senti Akira Sparati in faccia E falla finita Ti prego Sì ma sti cazzi Dai Vaffanculo Vai via E' una cosa fra donne qua Ma vai via Ma chi ti vuole? Dai Povero micio Ma che sto Che pezzo di merda Ti odio Che stronzo Adesso che fai mangioglie Ma dai Un po' più colina Anche lei Ok Questa è una cosa Un po' più importante Ricevuto Akira Akira Mi scusi Stavo tirando via un gatto Ok Se Of course You're feeling up to it Akira That's perfect Wait What? Sorry Come on Let's keep going Sto tizio mi stai Ah Il fratello La sorella Dipende quale senso Scegliete voi È un personaggio Veramente Troppo Pressante Povero gattino Devo fargli la foto Tra l'altro Senti ma Vuoi di nuovo Il gatto indietro? Guarda il costume Di lappi Buttatola per terra Incontro Akira Sul tetto Akira Non Akira Ed eccoci sul tetto Lo spostamento rapido È molto utile Aspetta che Gli facciamo una foto Giusto per sicurezza Guarda che sguardo Ci odia Ci odia Per tutto quello Che abbiamo fatto Finora Ok Eccomi Se è laggiù Quindi è Eh già Altre persone scomparse Controllare se nostro padre è ancora vivo Vero? Secondo me l'ha buttato di sotto Che pezzo di merda No vabbè Forse no Per come l'ha detto Forse 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 L'ha solo nascosto Cioè Lo tiene nascosto lui Forresta Maison Eccoci arrivati Zona 30 Zona 30 Forresta Maison Ma dai il gatto Peccolino Che bello sguardo che abbiamo dato Oh c'è la C'è la roba da Da ripulire Si lavora come bravi poliziotti Ok intanto Io mi metto lo spadone Perché voglio imparare bene ad usarlo E diamo già una ripulita in giro C'è la roba da